Intanto Monsignor Buomarito è stato il Vescovo che mi ha ordinato sacerdote il 14 settembre del 1989. Sono stato anche ordinato diacono da lui il 30 novembre dell'88 e subito quando ci fu il cambio da Monsignor Pichinenna a lui, lui ancora prima di essere in diocesi il suo primo pensiero fu al seminario. E ricordo con affetto che proprio a giugno dell'88 lui telefonò e volle parlare uno per uno con i seminaristi dicendo che era contento di essere stato trasferito a Catania, nominato arcivesco della diocesi di Catania e teneva nel suo cuore il seminario perché diceva è il cuore della diocesi, se un Vescovo non ama il seminario vuol dire che non ama la diocesi e lui lo sottolineava più volte, l'amore al seminario, il lavorare per il seminario. Da allora si è instaurato con tutti noi seminaristi e poi noi siamo stati i primi ad essere ordinati da lui, appena nominato arcivesco di Catania, si è stabilito un rapporto veramente profondo di umanità, di paternità. Era un Vescovo padre, un Vescovo che sapeva innanzitutto anteporre alla sua autorità l'aspetto umano, si approcciava con ciascuno di noi nel rispetto dell'umanità, nell'affetto di padre e chiedeva sempre. Non c'era un compleanno, un onomastico, un evento che lui non ricordava. aveva subito pronta la telefonata o addirittura veniva all'improvviso facendoci una sorpresa e questo nei suoi modi lo ricordiamo tutti, è unico nella sua gestualità, nel suo parlare, gli slogan che spesso sapeva darci accompagnati anche da quella espressività visiva che è una caratteristica profonda della sua persona. Quindi lo ricordo con affetto, ora lui pregherà per noi certamente dal paradiso dove vedrà quel Signore che ha amato e cercato nella sua vita e servito con il ministero sacerdotale e poi episcopale.